Ben trovati, ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it. Quest'oggi andremo avanti con il corso di montaggio video in Adobe Premiere e vedremo una lezione forse molto interessante perché dopo aver visto come inserire effetti video nelle nostre clip in Adobe Premiere, vedremo come animare i parametri degli effetti per ottenere semplici animazioni in Adobe Premiere. Ce ne occuperemo tra un secondo, prima però vi ricordo di venirmi a trovare sul sito internet www.fabioambrosi.it, sito dove troverete l'elenco di tutti i tutorial fatti fino ad ora e anche di quelli che faremo nelle prossime settimane con articoli per approfondire quello che viene detto in questi tutorial. Se avete voglia, se vi fa piacere, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere i tutorial di prossima uscita e chiaramente commentate con domande, suggerimenti e quant'altro sia questi video che gli articoli presenti sul sito internet. Bando alle chiacchiere, vediamo cosa faremo quest'oggi. Vedremo come animare la posizione di una fotografia. Ecco, partiremo da qui per spiegare cosa significa animare e quali sono i concetti fondamentali da comprendere prima di addentrarci nel meraviglioso mondo dell'animazione. Vedremo poi come generare un cerchio rosso, lo abbiamo già visto la settimana scorsa, ma quest'oggi vedremo come muovere questo cerchietto rosso per evidenziare una porzione di immagine. Per esempio, qui ho evidenziato l'arrivo della tazzina del caffè, rivediamolo. Questo può essere molto utile se dovete per esempio montare un servizio televisivo su una partita di calcio, dovete evidenziare un'azione, un personaggio che corre, un calciatore che corre, volete magari evidenziare una posizione di fuorigioco, quello che volete, mettere dei cerchietti che evidenziano può essere una soluzione. D'altronde spesso capita di vedere questo in molti servizi giornalistici e vedremo come si realizza. Termineremo questo tutorial dimostrando come sia possibile in Premiere animare qualunque cosa. Praticamente tutti i parametri o quasi tutti i parametri degli effetti che andate ad applicare alle vostre clip possono essere animati. In quest'ultima dimostrazione io ho usato un pizzico di color correction per dare dei colori freddi, una temperatura fredda a questa immagine e ho utilizzato la possibilità di animare il parametro della temperatura del colore per scaldare l'immagine a mano a mano che il caffè riempie la tazzina, vedete che l'immagine assume delle tonalità un pochettine più calde e ho concluso questa dimostrazione mandando l'immagine in bianco e nero, quindi togliendo completamente i colori, desaturando completamente l'immagine. Cominciamo subito, vediamo di fare tutti e tre questi esempi partendo dal primo, quindi come animare una fotografia. Prima però dobbiamo parlare di un concetto importantissimo nel mondo dell'animazione digitale. Quello che sto per dirvi vale sia per Adobe Premiere, sia per Avid, sia per la grafica computerizzata, per gli effetti speciali più complessi che vedete al cinema. È un concetto fondamentale nel mondo dell'animazione digitale. Quello dei keyframe, chiamati in italiano fotogrammi chiave. Che cos'è un fotogramma chiave? Un fotogramma chiave è un fotogramma particolarmente importante perché è il fotogramma che contiene le informazioni dello stato dell'oggetto che noi stiamo animando in quel momento. Sarà tutto molto più chiaro tra un secondo con un semplice esempio. Io voglio muovere questa fotografia, ok? Voglio farla muovere da sinistra verso destra. Allora io intanto devo capire dov'è la posizione, dov'è il parametro che mi permette di controllare la posizione di questa fotografia. Quindi seleziono la fotografia, lo abbiamo già detto, sotto alla voce movimento abbiamo il parametro posizione. Con il primo parametro possiamo modificare la posizione in senso orizzontale, con il secondo parametro possiamo modificare la posizione in verticale. Questo lo avevamo già detto in un tutorial precedente. Quello che faremo oggi è inserire dei fotogrammi chiave, dei keyframe. Cosa vuol dire? Vuol dire che io in questo esatto punto della timeline, a 19 frame per la precisione, voglio che l'immagine si trovi in una posizione ben precisa. Per esempio voglio che si trovi qui, con il bordo più a sinistra che va quasi a toccare il mio margine di sicurezza. Perfetto. Voglio dire a Premiere che questa posizione, questo fotogramma, il fotogramma 19, deve essere preso come riferimento perché voglio dire a Premiere che qui deve iniziare la mia animazione. Che cosa faccio? Caratterizzo questo fotogramma come un fotogramma chiave. Quindi vicino al parametro posizione c'è un simbolo che rappresenta un cronometro ed è questo il simbolo che mi permette di attivare i fotogrammi chiave. Ok? Quindi io premo lo stopwatch qui vicino al parametro posizione e vedete che qui nella piccola timeline del pannello di controllo viene aggiunto un piccolo diamante. Quel diamante mi indica che quel fotogramma, questo fotogramma, il fotogramma 19, è un fotogramma chiave. Premiere sa che qualunque cosa accada in questo fotogramma l'immagine deve trovarsi in questa posizione. Questi due parametri devono avere questi valori. Questo è un fotogramma chiave. È un fotogramma importante perché Premiere sa che i parametri che hanno quel fotogramma chiave selezionato devono avere dei parametri ben precisi. Ok? Vado avanti nella mia animazione. Mi porto per esempio qui a 3 secondi e 14 frame. Ora io voglio dire a Premiere che in questo momento temporale l'immagine non deve più trovarsi in questa posizione. Ma per esempio voglio che l'immagine vada verso destra. Chiaramente senza fare altro, visto che lo stopwatch qui è già acceso, nel momento in cui ho modificato questi parametri, Premiere ha aggiunto un secondo diamantino in questa posizione temporale. Che cosa significa? Significa che Premiere ha reso il fotogramma presente a 3 secondi e 14 frame un fotogramma chiave. Quindi Premiere sa che in questo momento temporale la mia immagine deve trovarsi in questa posizione, ovvero verso destra. Quindi ricapitolando, avevamo detto che all'inizio di tutto l'immagine deve trovarsi a sinistra in questo esatto momento temporale e alla fine di tutto in questo momento temporale l'immagine deve trovarsi verso destra. Questo è il significato di fotogramma chiave. È un fotogramma che contiene le informazioni del parametro che noi stiamo modificando. Appunto, un fotogramma chiave, un fotogramma più importante rispetto agli altri fotogrammi. Ora, se io mi porto all'inizio della mia clip e premo la barra spaziatrice per mandare in play, guardate cosa accade. Premiere sostanzialmente ha capito che nel punto A il video deve trovarsi a sinistra, nel punto B il video deve trovarsi a destra e i fotogrammi intermedi tra il punto A e il punto B vengono modificati di conseguenza con un'azione che viene chiamata interpolazione. Ovvero Premiere automaticamente sa che questi valori devono essere modificati per fare in modo che dal punto A arrivino al punto B. Questo è il concetto di fotogramma chiave ed è così che si animano le proprietà presenti nelle clip e negli effetti di Adobe Premiere. In realtà questo è un concetto che va oltre Adobe Premiere perché in qualunque software di animazione, di grafica 3D, anche in After Effects, in Avid, anche nei software musicali a dir la verità, esiste questo concetto di fotogramma chiave, di keyframe. Quindi imparatelo bene, comprendetelo bene perché ve lo ritroverete utile in tante situazioni, se già chiaramente non lo conoscete. Ad ogni modo, senza praticamente nemmeno accorgercene, abbiamo visto come si anima in Premiere perché poi tutto viene fatto esattamente come ho fatto in questo primo esempio. Qui abbiamo animato la posizione, però facciamo un altro esempio creando, generando un cerchietto rosso e animando il cerchietto rosso che vado a seguire la mia tazzina di caffè. Dunque, a me serve l'effetto genera cerchi, quindi scrivo cerchi nel menu di ricerca, vedete che automaticamente Premiere individua l'effetto che io stavo cercando, lo inserisco nella seconda clip e automaticamente vedete che l'effetto genera cerchio viene inserito in coda a tutti i parametri già presenti in questa clip video. Come abbiamo già visto la volta scorsa, di per sé così non ha molto senso, devo modificare il metodo di fusione, portarlo alla voce normale, da nessuno a normale e vedete che qui ho un cerchietto bianco. Modifico i parametri di questo effetto, per esempio dandogli uno spessore, già così va più che bene, modifico la posizione per portare questo cerchietto vicino alla tazzina di caffè, magari modifico anche il colore, io nell'esempio di prima ho usato il rosso, ma posso usare anche un verde o un giallo, un colore che voglio, un blu, va benissimo, ecco qui. Modifico la scala, il raggio meglio ancora, di questo cerchio, ecco qua, lo sistema ancora un pochettino meglio e questo potrebbe essere il nostro punto di partenza per iniziare l'animazione di questo cerchio. Come si fa ad animare questo cerchio? Chiaramente noi di tutti questi parametri e lo ripeto se non l'ho già detto, tutti i parametri che hanno il simbolino qui del cronometro sulla sinistra sono parametri animabili, ok? Quindi tutti questi parametri che vedete con questo simbolo possono essere animati così come abbiamo fatto prima, ok? In questo caso io quale parametro voglio andare ad animare? Chiaramente il parametro del centro. Il parametro del centro, lo abbiamo già visto prima giocandoci, è il parametro che mi fa cambiare la posizione di questo cerchio. Perfetto, allora io posiziono il cerchio, ok? Nel punto di partenza da cui voglio far iniziare l'animazione. Oh, io chiaramente sono partito da questo punto, posso anche partire più avanti o più indietro, il punto di partenza è totalmente a vostra scelta. Io mi metto in questo frame, sistema ancora una volta il cerchio e attivo il cronometrino per dire a Premiere, vedi che da adesso in poi qualunque movimento vado a fare al parametro cerchio, io voglio che tu lo memorizzi come fotogramma chiave. Quindi abilito il cronometrino, viene inserito qui il diamantino e quindi Premiere sa che qualunque cosa accada in questa posizione, in questo momento temporale, il cerchietto deve trovarsi in questa posizione o meglio questi due valori della proprietà cerchio devono trovarsi in questa posizione, ok? Devono avere questo valore esatto. Bene, animiamolo, quindi vado un pochettino indietro, vedete che il cerchio rimane fermo, io modifico ancora la posizione per seguire la tazzina, ok? Chiaramente io adesso andrò veloce ma voi cercate di essere precisi quando fate queste cose, vado ancora indietro e lo muovo ancora, ok? Vado fuori quando la tazzina va via e il cerchio lo sposto fuori dallo schermo. Perfetto, vedete che già l'animazione, no? È praticamente, la prima parte è praticamente già fatta. Andiamo avanti, la tazzina chiaramente continua la sua corsa, io qui muovo il centro del cerchio per farlo, per fare in modo che segua la tazzina, ok? Più o meno ci siamo, vado ancora avanti, la tazzina scende un pochino e va ancora un po' verso destra, quindi scende anche il cerchio ed ecco qua, vado ancora un pochettino avanti, vedete che si è spostata un pochettino verso sinistra, lo ricentro, ok? Andiamo ancora avanti, la tazzina va verso sinistra e si alza un pochettino, continua a fare questa operazione. Guardate intanto qui come si stanno aggiungendo fotogrammi, eh? Quelli sono tutti fotogrammi chiave, ok? E questa è la fine, lo sistema, ok? Vedete questi sono tutti fotogrammi chiave e Premiere ricorda, ricorderà che in tutti questi momenti temporali i valori devono avere i valori che io avevo impostato, ok? Torno indietro e vediamo questa animazione come è uscita, ok? Si può fare meglio, eh? Per carità, però andando di fretta, qui più siete precisi e più viene fluida e perfetta l'animazione. Questo è quello che abbiamo fatto animando la proprietà cerchio dell'effetto genera cerchio, ok? O meglio la proprietà centro, o non cerchio. Ipotizziamo che io quando tutto è finito voglio far sparire questo cerchio, ok? Ci sono tanti modi per farlo, però giocando con i parametri mi sono accorto che se io portassi il parametro spessore da 10 a 0, praticamente il cerchietto sparisce. Quindi io adesso riposiziono il valore spessore a 10. Inserisco un fotogramma chiave, mi trovo nel punto in cui voglio che la mia animazione inizi, quindi io abilito lo stopwatch per dire che voglio inserire un fotogramma chiave, voglio che tutte le modifiche che farò a questo parametro da adesso in poi vengano segnate come fotogramma chiave, quindi abilito lo stopwatch, vedete che viene aggiunto un diamantino, vado un pochettino avanti, porto il parametro dello spessore a 0, viene aggiunto un secondo diamantino e vedete che sostanzialmente il diamantino, i due diamantini mi indicano che in questa posizione lo spessore deve essere 10, in questa posizione lo spessore deve essere 0 e vedete i valori intermedi li calcolo automaticamente Premiere. Ok, e questa è l'animazione che noi abbiamo fatto di due parametri dell'effetto genera cerchio. Ok, perfetto. Come vi dicevo però, questa operazione può essere fatta con tutti i parametri che hanno lo stopwatch vicino al nome della proprietà. Dimostrazione, applichiamo un pizzico di color correction, parleremo della color correction più avanti, quindi per adesso prendete questo esercizio solo come una dimostrazione per vedere come si anima, ma la color la vedremo più avanti. Cerco l'effetto lumetri, eccolo qua, perfetto, lo applico all'ultima clip e qui bisogna giocare un pochettino. Giochiamo con la correzione di base, se io espando la cartella correzione di base, qui sotto trovo il parametro temperatura. Ok, a 0 chiaramente è la temperatura dell'immagine che aveva quando è stato girato questo video. Abbasso questo parametro e vado a affreddare l'immagine. Ok, perfetto. Oh, voglio animare la temperatura in maniera tale che a mano a mano che la tazzina del caffè si riempie, questa immagine si scaldi. Allora io scelgo un punto di partenza, per esempio qui, abilito qui il mio keyframe, vedete che il diamantino viene aggiunto, vado avanti, per esempio qui verso la fine, mi lascio un po' di margine poi per mandare in bianco e in nero tra poco, ecco qui, scaldo la temperatura colore modificando il parametro, ecco, vedete che viene aggiunto un secondo diamantino e se adesso vado a vedere cosa è successo, mandando in play, vedete che l'immagine a mano a mano si scalda, vedete il parametro qui come cambia, ok? Perché chiaramente Premiere sa che in questo punto il parametro deve avere questo valore, in quest'altro punto il parametro deve avere quest'altro valore e tutto quello che è nel mezzo viene calcolato da Premiere. Oh, non l'ho detto, ma questi sono oggettini selezionabili e spostabili, eh? Chiaramente più tempo intercorre tra il fotogramma chiave A e il fotogramma chiave B, più tempo l'animazione impiega per concludersi. Se io questi due quadratini, questi due diamantini, li mettessi vicinissimi uno all'altro, tutto avviene molto più rapidamente, no? Addirittura se io li metto molto vicini, praticamente il cambiamento è istantaneo, quindi la velocità dell'animazione dipende dalla distanza di questi due diamanti, ok? Questi possono anche essere rimossi selezionandoli e premendo il tasto Canch sulla tastiera, in questo caso tutto rimarrebbe bloccato al primo fotogramma, chiave, CTRL Z per annullare, riposizioniamo più o meno dove si trovava prima, ecco qua. In questo modo ho animato il parametro temperatura dell'effetto colore lumetri. Voglio mandare in bianco e nero l'immagine, voglio desaturare l'immagine, mi posiziono verso la fine dell'animazione precedente, ma io posso posizionarmi in qualunque punto della clip io voglia, per esempio mi posiziono qui, scendo in basso per cercare il parametro della saturazione, eccolo, che chiaramente adesso è al 100%, voglio animare questo parametro, premo lo stopwatch, il cronometrino in questa posizione temporale, vedete che viene aggiunto un diamante e Premiere si ricorderà che in questo punto della mia timeline il valore della saturazione deve essere 100, ok? Vado un pochettino avanti e porto questo valore a 0, vedete che l'immagine diventa in bianco e nero, vediamo cosa è successo dall'inizio alla fine, l'immagine si scalda, vedete che qui adesso entrerà tra poco in azione anche la desaturazione, ecco qui l'immagine diventa in bianco e nero e tutto finisce. Credo che sia abbastanza semplice, l'unico modo per imparare in queste cose è provare, quindi fate un progettino vostro, sperimentate quello che ho detto in questa lezione, se avete domande commentate questo video oppure venite sul sito internet www.fabioambrosi.it e commentate l'articolo di questa lezione con i vostri dubbi o anche con aggiunte se avete qualche altra informazione da dare, siamo tutti qui per imparare del resto. Mi fermo, mi fermo, nelle prossime lezioni vedremo altri effetti che possono essere molto utili ad un montatore video, ne parleremo nei prossimi tutorial, per il momento vi ringrazio, iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere i prossimi tutorial, grazie ancora, grazie per i messaggi che inviate di supporto, sono molto importanti per me per andare avanti con questo corso, passate parola, grazie mille, buon proseguimento, ciao!